Musica Come mai siete qua? Per una manifestazione ipotistica Ah quella lì in corsa per... Fino allo stadio Ah fantastico, bravi Che colpo siete che? Dei bersaglieri, in congetto Ci faccia sentire un po'? Sì Pronti È pronto a 45 gradi Il colondello Pronti? Ah 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una, una. Grazie a tutti. La ricciolina la dedichiamo alla cassiera anche se non è riccia. Ecco, la dedicata a lei. Noi facciamo l'improvvisione. Noi facciamo l'improvvisione poi. Noi facciamo l'improvvisione. 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 Grazie a tutti.